Grazie. 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 Buongiorno. Buongiorno, questa è una sessione un po' particolare rispetto al tema della conferenza ma che risottolinea l'importanza e il core business dell'Istat, cioè quello di produrre, trattare, elaborare e restituire alla collettività informazioni raccolte da indagini statistiche. Siamo nel contesto dell'intelligenza artificiale, siamo nel contesto dei dati amministrativi ma non dobbiamo assolutamente perdere quello che noi statistici dovremmo saper fare a mena dito. In questa sessione abbiamo qui diversi colleghi, da Giuseppe Stasi che sta con noi a raccolta dati, a Silvia Lorica che lavora nella direzione delle metodologie dell'Istat, a Maura Giacomo che lavora nella direzione centrale per le tecnologie e per l'informatica, a Nora Smith che lavora in Ipsos che è uno dei nostri storici fornitori e che ci aiuta a raccogliere i dati sul territorio, e poi il rettore della LUIC, il professor Federico Visconti che ci racconterà delle aspettative che il mondo imprenditoriale ha delle nostre informazioni. Volevo cominciare subito a dare la parola a Giuseppe, Giuseppe Stasi, perché è fondamentale tracciare un quadro di come la nostra fonte principale, da dove prendiamo le informazioni, i nostri principali interlocutori, cioè i rispondenti, coloro che dedicano del tempo e delle energie a fornirci la materia prima sulla quale lavoriamo, per capire come e quanto i rispondenti riescono ancora, passatemi la battuta, a sopportarci. Perché? Perché le nostre indagini, la voglia di conoscenza, le nostre indagini, quanto i regolamenti europei ci impongono, ci costringono quasi a fare, a costruire dei questionari, delle indagini sufficientemente complesse, a noi sembrano non complesse perché le facciamo noi, facendole noi non ci accorgiamo quasi neanche della pesantezza a volte di quello che noi chiediamo alle famiglie, agli individui, perché parliamo di istituzioni, parliamo di imprese, parliamo di famiglie, ma tanto chi risponde è sempre un povero Cristo, scusate la battuta, che ci aiuta nel nostro lavoro. Questa per noi è una risorsa fondamentale, come dicevo prima, nel mondo dei registri, nel mondo degli archivi amministrativi, nel mondo dell'intelligenza artificiale, comunque non si può prescindere dall'utilizzo delle informazioni raccolte presso i cittadini. Passo la parola a Giuseppe, abbiamo tutti una decina di minuti così possiamo anche favorire un po' di dibattito alla fine. Bene, grazie, buongiorno e ben arrivati a tutti. Devo confessare che quando abbiamo messo in programma non mi aspettavo una sala piena, quindi sono veramente contento di vedervi tanti. Appunto un argomento forse un po' estemporaneo perché in una conferenza caratterizzata dal tema anche dell'intelligenza artificiale noi siamo ritornati un po' alle origini, cioè ai rispondenti, perché abbiamo una consapevolezza che senza i rispondenti molto probabilmente non ci sarebbe un'informazione statistica ufficiale. Ci siamo chiesti, anche se potrebbe sembrare evidente, chi sono i rispondenti perché poi alla fine è una cosa che viene abbastanza spontanea. Tutti e nessuno, nessuno e tutti. In realtà se considero, mi è bastato guardare il nostro calendario delle indagini, l'istituto, fondamentalmente per il tramite della raccolta dati, gestisce oltre 100 processi, 100 rilevazioni, 110, 120 a seconda degli anni nel corso appunto dell'anno. Ne abbiamo portate a casa 121, vado a memoria, nel 2023, ne abbiamo già in calendario 111, ma di solito aumentano, non diminuiscono. È chiaro che 25 e 26 ancora la programmazione non è completata, ma siamo già oltre 100 a calendario. Rilevazioni che poco fa Claudio diceva non è un capriccio, non è un capriccio il questionario, men che meno la rilevazione. Considerate che di queste cifre che vi ho dato, la costante statistica è che tre quarti sono, come si dice, sotto regolamento. Cioè non sono né un capriccio, né una curiosità, né neanche un qualche cosa di abbiamo scoperto, ma un obbligo che abbiamo perché dobbiamo attendere a qualche regolamento, a qualche direttiva europea. Proprio in queste giornate in cui discute di intelligenza artificiale, sono già chiesti, me l'ho chiesto io mentre scrivevo, ce lo chiediamo tutti, ma possiamo sostituirli? A mio avviso no. Possiamo sostituirli perché comunque anche l'intelligenza artificiale deve essere alimentata. Quindi noi continueremo ad andare sul campo, magari in maniera minore, magari lo faremo in altro modo, però continueremo ad avere bisogno dei rispondenti. Ecco perché la centralità di questo soggetto del processo statistico. E torno chi? Chi? Praticamente sempre tutti, perché non è soltanto la numerosità e delle rilevazioni che andiamo a condurre, se non altro anche magari per verificare la completezza di un archivio, comunque, ma pensiamo a tutte le rilevazioni su fenomeni che non sono cristallizzati in un archivio, vuoi per la loro natura, vuoi per la velocità con la quale cambiano. Insomma, siamo tutti professionisti del settore, quindi non mi dilungo su questo. E i settori invece, gli ambiti di studio, sono talmente tanti che nessuno sfugge. Quindi, tenendo conto che oltre alle indagini correnti, noi associamo anche quelli che sono ormai continui, permanenti, come dice la norma, i censimenti, prima a cadenza decennale, ce li ricordiamo più o meno tutti. Adesso, a partire dal 2016, continui e non sembrerebbe, ma già ne abbiamo fatti 14, ci apprestiamo a fare il quindicesimo, nel senso che a ottobre partirà la nuova edizione del censimento permanente della popolazione. 14 non sono pochi e hanno investito, ovviamente, lo possiamo dire, milioni di unità di rilevazione, cosa che prima magari accadeva ogni dieci anni. Ecco, tutto questo ci fa chiudere, ovviamente, con una considerazione che può aprire banale, ma che ci riguarda, i rispondenti siamo tutti. E tutti, dal cittadino all'imprenditore, dal conduttore di azienda agricola all'amministratore pubblico, tutti abbiamo un'elevata probabilità, nel corso della nostra esistenza, di essere inclusi. E se, come capita sempre in questi casi, qualcuno dice a me non mi è capitato mai, fidatevi. E se proprio avete questo desiderio, uscendo, potete lasciare un recapito, che un questione vi ve lo mando, tranquilli, in qualche indagine vi faccio rientrare tranquillamente. Quindi, l'importanza di questo elemento, come misuriamo, come questo elemento così importante risponde? Con quello che semplifico, lo dico subito per i colleghi, semplifico il concetto di tasso di risposta, perché non è così banale, sì è un rapporto, ma a seconda dei casi ha varie sofisticazioni, molto semplificando il numero dei questionari che ho portato a casa, rispetto a quelli che avrei dovuto portare sulla base della numerosità. Non è così semplice, ma questa è una semplificazione sufficiente al nostro obiettivo. Quindi il tasso di risposta è il nostro primo indicatore, poi ce ne sono altri evidentemente, di come i nostri rispondenti reagiscono alle nostre indagini. sono molto diversi, sono, ve lo anticipo, buoni, i risultati sono buoni, nel senso che analizzandoli, guardandoli, studiandoli, cosa che si fa abbastanza spesso, vediamo come questi risultati ci portano a dire funziona, il che non significa che non ci siano sempre e comunque margini di miglioramento. Ci sono differenze a seconda dell'unità di rilevazione, sia essa un'impresa, una famiglia, un'istituzione pubblica, e il tipo di rilevazione, perché quelle congiunturali hanno dei tassi di risposta molto molto più elevati. Nel 2023 le principali, ho visto, hanno un tasso medio dell'88%, con punta del 95%, è un'eccezione al 98%, quindi più che soddisfacente vorrei dire. Le indagini strutturali sulle imprese hanno tassi mediamente più bassi, però quello che si vede in serie storica è che tengono, cioè nonostante una percezione che abbiamo tutti di una certa disaffezione, i tassi tengono nel tempo e sono comunque sempre relativamente alti. Parliamo comunque ogni anno sulle congiunturali, noi coinvolgiamo 88, 90, 100 mila unità di rilevazione al netto delle possibili ripetizioni, perché a volte capita di essere in più rilevazioni, e le strutturali correnti, quindi non parlo dei censimenti, parlo delle strutturali correnti, possono tranquillamente arrivare a 250, 260 mila unità di rilevazione, che sono numeri significativi a cui corrispondono, come vi dicevo, tassi che ci danno soddisfazione. Ovviamente non vi cito tutti i tassi, e ho un sacco di numeri, ma mi hanno avvertito prima, guai a te se ci provi. Quindi mi hanno anche detto, non fa slide, se no ci metti tutti i numeri. Quindi ho evitato accuratamente. Al di là dell'unità di rilevazione, e non entro neanche perché alcune distinzioni le vediamo a livello territoriale, ma non sarebbe questa la sede e non basterebbe il tempo. Al di là dell'unità di rilevazione e della periodicità, quindi congiunturali o strutturali sulle imprese, vediamo, funziona tutto molto bene, e abbiamo, appunto al di là dell'unità, abbiamo la periodicità, e anche su quella funziona. Se cambio unità di rilevazione mi accorgo di questo. Mi accorgo che sulle famiglie, ad esempio, la situazione invece tende a cambiare. C'è una generalizzata disaffezione da parte delle famiglie e nei confronti alle rilevazioni, il che non vuol dire che non rispondono, rispondono con tassi inferiori. Adesso però devo leggere, devo citare, perché se no è qui di fronte il responsabile, mi rimprova e mi ha dato i dati, forse lavoro, un'indagine che conosciamo tutti, ho anche fatto una citazione bibliografica, passa dal primo trimestre 2019 al quarto trimestre 2023, dal 92,1 all'83,4, come tasso di completezza, ecco appunto la sofisticazione. Una situazione abbastanza analoga, indagine spese, 99 nel primo trimestre del 2018, 86 nel quarto trimestre del 2023, sono sempre numeri molto alti, attenzione, però vediamo una tendenza alla decrescita, di contro tutte le varie rilevazioni che noi teniamo, grazie all'ausilio della pubblica amministrazione, oppresso la pubblica amministrazione, penso alle statistiche di fronte da Stato civile, hanno percentuali bulgare, hanno avuto anche, mi hanno scritto 99,9, perché 100 non gli è piaciuto, 99,9 senza sostanziali differenze, e per quelle che sono tutte le statistiche di fronte da Stato civile. Una lieve flessione nel primo trimestre del 24, 97,7, ma non credo che sarà un problema. Stessa cosa, se vado a vedere, quello che viene curato presso le polizie stradali, gli incidenti stradali con lesione alle persone, e vengono rilevati tramite appunto le polizie locali, hanno tassi, il 100% sulla trimestrale, il 98,8 sulla mensile, leggeva flessione adesso di 88,4, 84,1 nel primo trimestre di quest'anno, però queste sono indagini dove il recupero è facile, non stiamo a misurare il PIL, ma poi tanto si sommano gli incidenti purtroppo, e quindi si recupera facilmente, non è un problema. Un ultimo focus, mi piace farlo sui censimenti, vuoi per ragioni sentimentali, a me il censimento ha lasciato un bellissimo ricordo, vuoi perché comunque sono la cartina di tornasole di un qualcosa che ci dovrebbe fare riflettere. Allora noi abbiamo visto una differenza nei tassi di risposta a seconda dell'unità di rilevazione. Il censimento di istituzioni pubbliche conferma il tutto, cioè le istituzioni pubbliche, sia quando devono fare da organo di rilevazione, sia quando diventa un'unità di rilevazione, puntano decisamente, oltre il 95, 97, 98, c'è una piccola eccezione, ma sono piccole realtà, comunque nel complesso il censimento di istituzioni pubbliche ha portato a casa un 92,9, quindi questo si conferma. Ci sono delle controtendenze quando vado a guardare il censimento della popolazione raffrontandola con il censimento delle unità economiche. Il censimento della popolazione, l'unità di rilevazione della famiglia, quindi non si discute. Eppure nell'ultimo comunicato stampa abbiamo potuto orgogliosamente dire quest'anno, 2023, dicembre 2023, abbiamo fatto il record di tasso di risposta 93,2% e poi sono sempre famiglie, è un milione e passa di famiglie, 93,2% crescente nel tempo, perché comunque non è mai sceso sotto il 91%, 92,8%, 92,5%, 92,4%, 91%, 93,2%. Quindi comunque l'unità di rilevazione bisogna avrebbe riflettere. Di contro, censimento economico, abbiamo visto che le imprese hanno avuto tassi costanti, andiamo a fare il censimento delle unità economiche nel 18,64%, nel 2022 perdiamo 9 punti percentuali, 55,1%. Quindi per completezza, censimento delle istituzioni non profit, 61%, che è anche un ottimo risultato. Qual è la considerazione, perché vedo il mio timer che va finendo e io sono uno che rispetta. La considerazione è che probabilmente l'unità di rilevazione è molto importante, ma è altrettanto importante, oltre a tutte le vere cose che sentiremo, semplificazione, facilità nella risposta, nuovi strumenti, nuove tecnologie, ma probabilmente molto importante è la rete di rilevazione. Il censimento della popolazione continua a essere pesantemente seguito dall'Istat sul territorio attraverso la propria rete territoriale. Il censimento dell'unità economica del 2018 ebbe una organizzazione tradizionale con ufficio regionale di censimento e responsabili di istat territoriali, quindi una formulazione classica. Nel 2022 soltanto un piccolo pugno di eroglio, definiti così, una decina di persone fece un lavoro specialistico sul territorio, quindi cambiata l'organizzazione. Magari non è questa la causa, evidentemente, però una riflessione su come andare, come avere il nostro ascolto, la nostra prossimità, probabilmente, a mio avviso, sui dati che ho avuto modo di vedere e che comunque sono disponibili per tutti, penso che meritino. Sono tre secondi, quindi vi ringrazio e lascio la parola. Grazie Giuseppe. Come potete immaginare, questi numeri molto belli che ci inorgogliscono nascondono una struttura e un lavoro molto pesante. Come tutti sappiamo, nell'istituto un'altra cosa che diminuisce è il numero di risorse, e quindi, per forza, dobbiamo pensare a come semplificare i processi di raccolta dei dati, a come semplificare e armonizzare le indagini in modo tale da non, passatemi il termine, sprecare risorse e ottimizzare, efficientare le indagini e questo parte inevitabilmente da approfondimenti metodologici che adesso Silvia ci presenterà e gli do subito la parola. E le do subito la parola. Grazie. Riuscirò a mandare avanti le slide? Ok. Allora, dunque, il progetto che vi vado a presentare è il progetto SICIS denominato Sistema Integrato Censimento e Indagini Sociali ed è un progetto che, diciamo, prevede il coinvolgimento di numerosi colleghi dell'ISTAT, attualmente, diciamo, il coinvolgimento maggiore è della DCME in collaborazione con, quindi direzione metodologica, scusatemi, in collaborazione con la raccolta dati. Qual è l'obiettivo principale di questo progetto? È quello di analizzare l'attuale stato dell'arte delle indagini sulle famiglie e formulare delle proposte per introdurre nel medio termine delle innovazioni che possano migliorare la qualità delle indagini e, in particolare, quindi focalizzando le analisi e le proposte di soluzione sugli aspetti metodologici e sulle strategie di tecnica di indagine. Allora, perché l'ISTAT sta avviando avviato, diciamo, è un progetto che è in corso da diverso tempo, perché ha deciso di avviare questo progetto? Quindi, perché è necessario, si ritiene necessario avviare uno studio per migliorare l'efficienza delle indagini sociali. Potremmo chiederci i disegni campionati non sono già scelti attualmente massimizzando l'efficienza e così come le tecniche di indagine, le tecniche per la raccolta dei dati non vengono già scelte diciamo tenendo conto delle migliori tecniche a disposizione? Sicuramente tutto questo è vero, però quello che si vuole fare è cercare di superare un approccio settoriale, quindi un approccio di tipo stovepipe, quindi in cui le soluzioni vengono scelte caso per caso e muoverci verso una logica più di sistema dove per logica integrata e di sistema diciamo intendiamo sia un'integrazione tra indagini diverse, quindi cercando di identificare le soluzioni che possono essere più appropriate considerando la situazione e le specificità delle diverse indagini congiuntamente e anche tra le diverse fasi di indagine. Chiaramente gli aspetti come ho già accennato prima su cui si focalizza il progetto sono aspetti relativi al disegno campionario, alle metodologie di stima e alla tecnica di indagine e diciamo il contesto è quello in cui vi è la possibilità di sfruttare chiaramente un ampio set informativo che deriva sia dall'utilizzo congiunto delle indagini insieme e in particolare qui vedremo diciamo c'è un campo particolare che riguarda l'integrazione del censimento permanente della popolazione con le altre indagini campionari sulle famiglie e sia chiaramente sfruttando l'ampio set informativo delle variabili disponibili nel sistema integrato dei registri. Il punto diciamo di partenza o comunque un punto fermo nel progetto è quello di tenere in considerazione le attuali criticità che vengono riscontrate già prima il dottor Sassi ne ha menzionate alcune diciamo al termine del suo intervento in particolare diciamo due aspetti che attualmente sono diciamo sotto osservazione sono la sottocopertura delle liste telefoniche che sono cruciali per la conduzione di indagini con tecnica telefonica e l'aumento delle mancate risposte. Riguardo alla disponibilità di recapiti telefonici appunto diciamo la situazione attuale prevede diciamo la disponibilità da parte del listat di un archivio datato al 2018 quindi con recapiti di bassa qualità proprio a seguito dello scarso aggiornamento e di la disponibilità di recapiti telefonici che vengono raccolti in sede di intervista del 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 master sample quindi dell'indagine campionaria ampia del censimento della popolazione che sta diminuendo. a fronte di questo quindi quali sono possibili soluzioni di tipo metodologico che diciamo in parte sono già esplorate in parte sono in corso di esplorazione una possibile soluzione che si sta studiando è quella del campionamento a due fasi cioè un campionamento diciamo cercando di spiegarlo nella maniera più semplice possibile in cui fondamentalmente si fa prima un'indagine grande che è quella del censimento della popolazione e a seguire su un sottocampione che è diciamo del campione precedente di prima fase si conduce un'indagine di seconda fase quindi di approfondimento tematico per una delle altre indagini sulle famiglie questo consente chiaramente di sfruttare la prima fase per raccogliere recapiti telefonici però come abbiamo visto il tassi di completezza dei recapiti telefonici stanno diminuendo nel corso del tempo chiaramente ci sono interventi sulle tecniche che possono essere studiati quindi utilizzo di tecniche miste cosa diciamo in realtà già ampiamente utilizzata in istituto e anche tecniche innovative che sono state studiate ampiamente diciamo dal punto di vista metodologico di disegni di tipo responsiva adattive che quindi consentono la scelta di tecniche adattive sulla base proprio dell'andamento dell'indagine sul campo vado avanti per cercare di stare nei tempi la seconda criticità su cui è opportuno focalizzarsi nell'ambito del progetto è quella del calo dei tassi di risposta ora chiaramente il calo dei tassi di risposta comporta una diminuzione della numerosità campionaria e quindi una perdita di efficienza ma comporta anche come si sta osservando soprattutto negli ultimi tempi in alcune indagini anche consolidate dell'istituto una forte selezione del campione e quindi una distorsione nelle stime finali questi sono gli andamenti diciamo molto piccoli non so quanto siano leggibili degli andamenti dei tassi di risposta dell'indagine forze di lavoro nell'ultimo periodo che aveva menzionato il dottor Stassi in giallo si vede che la situazione più critica è relativa alle indagini telefoniche nel primo grafico quello superiore nel grafico inferiore si vede che sempre in giallo c'è l'andamento dei tassi irreperibilità quindi le mancate risposte a causa di irreperibilità della famiglia rispondente sempre per i contatti telefonici quindi la criticità ecco è evidente ce l'abbiamo sotto gli occhi quali sono le possibili soluzioni di tipo metodologico che si stanno studiando allora le stesse diciamo già dette in precedenza anche relativamente alla tecnica quindi l'utilizzo di tecniche miste di tecniche responsiva adattive che quindi possono andare maggiormente verso la diciamo possano ottenere una maggiore predisposizione dei rispondenti delle famiglie alla risposta potrebbero essere studiati in caso di campionamento a due fasi dei ritorni mirati sui non rispondenti della prima fase per diciamo approfondire situazioni di mancata leggibilità quindi problemi nelle liste o situazioni di irreveribilità delle famiglie infine in ultimo nel momento in cui le mancate risposte diciamo ci sono sono presenti nei nostri campioni occorre intervenire per la correzione delle distorsioni e qui possono essere utilizzate nel caso del campionamento a due fasi le informazioni raccolte nella prima fase per cercare di correggere la distorsione per mancata risposta o ancora nuovamente si possono sfruttare le fonti amministrative quindi il contesto chiave diciamo di questo progetto è quello che prevede lo spostamento da un contesto in cui gli output statistici nel campo delle indagini sulle famiglie erano basati quasi esclusivamente sui dati di indagine ad un contesto in cui invece diventa sempre più spinta già è avvenuta l'integrazione ma diciamo ci si muove in modo che venga ulteriormente portata avanti integrazione tra diverse indagini tra indagini e dati amministrativi nelle diverse fasi del processo quindi nel contesto del disegno campionario nella fase di imputazione e correzione mancata risposta di errori di misura correzione mancata risposta e nella metodologia di stima vado ad illustrare due progetti sperimentali che sono attualmente in corso nell'ambito della direzione metodologica proprio nell'ambito diciamo nel contesto di questo progetto allora il prima è una sperimentazione del campionamento a due fasi in cui si sta diciamo attualmente in fase di conclusione questa sperimentazione ed è orientata ad una valutazione comparativa dell'efficienza di diversi scenari di integrazione tra diciamo l'indagine di prima fase che è quella del master sample del censimento della popolazione e indagini di seconda fase che in questo caso nelle sperimentazioni sono aspetti della vita quotidiana e forze lavoro ci sono diversi scenari di integrazione l'obiettivo è valutare i miglioramenti di efficienza o eventualmente le riduzioni campionarie che sono possibili a strategia data ed eventuali cambiamenti di strategie che sono opportuni nelle diverse indagini chiaramente è opportuno anche valutare il trade off tra processo di integrazione e molestia statistica perché è evidente che nel momento in cui vengono integrati i campioni c'è un effetto anche sulla molestia statistica dei rispondenti e le potenzialità diciamo dello sfruttamento della prima fase ai fini della seconda fase in termini di ottenimento di recapiti telefonici e anche ottenimento di variabili funzionali alla stima la seconda sperimentazione riguarda invece una tecnica di campionamento in particolare un campionamento secondo un bilanciamento spaziale dei comuni dunque una prima sperimentazione è stata già condotta e conclusa per quanto riguarda il master sample quindi l'indagine L del censimento della popolazione mentre invece attualmente è in corso una sperimentazione sulla selezione di comuni con bilanciamento spaziale al primo stadio di un'indagine di tipo forze lavoro e anche qui l'obiettivo è una valutazione dell'efficienza comparata di diversi disegni di campionamento e diciamo l'obiettivo quindi è ottenere una valutazione quantitativa del miglioramento di efficienza che possa essere utilizzata quindi poi per prendere decisioni sulla strategia campionaria e valutare anche chiaramente un impatto diciamo un drawback è l'impatto in termini di raccolta dati perché più il campione è diffuso spazialmente e chiaramente è più ha un impatto sulla rete di rilevazione concludo con questa ultima slide introducendo il concetto della coerenza by design che è cruciale diciamo nel progetto del sistema integrato censimento indagini sociali e fondamentalmente è fondato sulla ricerca di una migliore coerenza in tutte le fasi fin dalla progettazione delle indagini tenendo conto sia delle fasi di progettazione metodologica sia di quelle della raccolta dati e che quindi secondo tutte diciamo gli sviluppi e le possibilità che molto rapidamente ho raccontato fin qui possono andare nella direzione di migliorare la coerenza degli output finali che chiaramente poi deve essere valutata anche invece proprio in fase di ottenimento degli output finali e qui è importante diciamo sottolineare l'opportunità di un coordinamento con un altro progetto dell'istituto che si chiama Coeres che diciamo viene condotto nell'ambito della direzione di produzione e che è orientato proprio alla valutazione della qualità della coerenza degli output finali che l'istituto va a produrre da indagini e da dati amministrativi concludo grazie adesso secondo me la parte più bella della questione Nora ci racconta come come smettere di trattare i cittadini rispondenti come merce questo è un elemento chiave perché secondo me ma credo qua in ora ci comincerà secondo tutti è proprio far sentire chi risponde al centro dell'importanza dell'obiettivo dell'indagine potrebbe essere la chiave di volta per catturare la risposta buongiorno a tutti intanto grazie mille per questo invito a essere qui oggi mi fa veramente molto piacere io mi chiamo Nora Schmitz lavoro in Ipsos che per chi non la conoscesse è una multinazionale globale che si occupa di indagini statistiche e di mercato e noi vantiamo una lunghissima collaborazione con Instat proprio nella realizzazione di field di grandi indagini come possono essere le indagini di forze di lavoro le indagini sulla sicurezza dei cittadini e tanti altri ma contribuiamo al Sistan anche con indagini come quelle per Banca d'Italia o ancora nel mio ambito elettivo io mi occupo di rilevazioni di misurazione delle audience e di ricerche sui media contribuiamo al Sistan anche tramite le indagini delle grandi organizzazioni media come Auditel o Audiradio che quindi danno gli indici di ascolto dei diversi mezzi e a loro volta fanno parte del Sistan vantiamo e questa è un po' una particolarità per un player privato e mi fa molto piacere che un player privato forse sono tra i pochi insomma sia invitato a parlare oggi perché noi siamo veramente in trincea non c'è l'obbligo di risposta da noi e quindi diciamo catturiamo i fenomeni nel loro devastante a volte naturalità però vantiamo e siamo ormai pochi tra i player privati ad averli una solidissima rete di operations interna questo perché crediamo tantissimo ancora nelle indagini probabilistiche e appunto nel valore dei rispondenti io vado indietro per andare avanti ho capito bene? no? non ho capito? ah! mamma mia! allora stiamo calmi qua qua sì bene e tutto questo investimento che noi facciamo nelle indagini probabilistiche nelle quali crediamo moltissimo in realtà lo facciamo a ragionveduta ben consapevoli del contesto noi lavoriamo quotidianamente ovviamente anche con tutte le tipologie dei dati e l'intelligenza artificiale lo facciamo perché crediamo nel valore dei dati e nel pensare a come intervenire oggi mi sono fatta la prima domanda che è va bene ma nel contesto che noi tutti osserviamo oggi è in prospettiva ancora un senso nei grandi sistemi statistici non solo quelli dell'istat ma anche in quelli delle audience o negli altri ambiti pensare alle indagini campionarie e il rispondente è veramente una risorsa così preziosa tutti noi ci ricorderemo di questa famosissima copertina dell'economist risale dal 2017 quindi è vintage ma in realtà cita un'espressione quindi data is the new oil che proviene addirittura dal 2006 quindi ancora più vintage come direbbe mio figlio però in realtà il punto è che sì qui si presenta il dato come qualcosa di valore come petrolio qualcosa che si scambia che genera valore e fa parte anche del PIL ma in realtà il riferimento è big data quindi la domanda è ma allora esiste in questo contesto nell'era dei big data uno spazio per l'indagine campionaria e il rispondente è veramente così prezioso effettivamente la domanda è ben riposta perché i sistemi di stima oggigiorno si sono trasformati tantissimo io penso al mio ambito che è quello della misurazione delle audience le tracce digitali solo per fare un esempio che gli utenti lasciano quando friscono di un contenuto o di un servizio ovviamente fanno ormai parte solo una costola portante proprio dei sistemi di stima che sono sempre più complessi ma questa realtà in realtà riguarda anche tutti gli altri ambiti per cui i miei colleghi magari che si occupano di marketing o di indagini sulle utilities tutti i giorni integrano dataset esattamente come ho sentito descrivere anche nella sessione plenaria e quindi questo fa parte un po' della vita quotidiana di noi tutti eppure in questo contesto la cosa che osservo io dal mio punto di osservazione è che c'è una fame enorme di dati campionari questa fame non sta cessando e il tema guardate non è solo l'ipersignificatività dei dati che sicuramente è un tema metodologico che voi mi insegnate è veramente molto pericoloso ma è anche che c'è bisogno di una misurazione per esempio nelle audience di terza parte neutrale ed è anche che c'è bisogno di una costola di osservazione single source per integrare diversi dataset nelle modalizzazioni complesse che fanno sempre più parte dei nostri sistemi di stima cioè noi dobbiamo osservare i comportamenti io nei media lo vedo tutti i giorni altrimenti i sistemi complessi di stima prendono delle derive diventano autoreferenziali fanno delle predizioni poi nella fase successiva prendono le predizioni con buone le integrano all'interno dei sistemi di stima e si rischia veramente una grandissima deriva quindi in realtà la richiesta è fortissima di dati campionari e oltre a essere hub tramite le osservazioni single source sicuramente i dati campionari danno anche un contributo esplicativo che è unico e preziosissimo sulla motivazione delle persone sulle loro reali abitudini quotidiane perché altrimenti rischiamo di dipingere degli esseri che in natura non esistono a furia di utilizzare media perché la media va benissimo però in realtà la realtà la dobbiamo rappresentare e questo fa parte anche del processo democratico e dell'inclusività come mi spiegate anche perché se ci pensate una grande multinazionale come la nostra sapete qual è il nostro cliente più grande al mondo Google Google che è un gatekeeper dei dati con tutti i dati che ha Google quei accessi solo lui colpisce che sia Google insieme a Meta e altre big tech il nostro cliente maggiore questo perché il dato campionario è effettivamente assolutamente insostituibile e allora se è insostituibile il dato campionario se sempre di più i dati campionari entrano all'interno di sistemi di stima ibride li preservano e li salvano e li proteggono dalle derive in realtà dobbiamo riconoscere anche il valore dell'individuo del fattore umano che sta alla base delle osservazioni e questo vuol dire dedicare tantissime energie per comprendere qual è il modo migliore per approcciarlo e per portare a casa i campioni questo dal nostro punto di vista significa investire prima di tutto sulle face to face noi realizziamo tantissime telefoniche le stime delle radio in Italia sono ancora fatte tramite indagini telefoniche ne facciamo centinaia di migliaia all'anno però sicuramente il tasso di sostituzione è fortissimo e quindi in realtà è un grandissimo problema c'è un problema di copertura di lista di come si fa a rappresentare in modo adeguato la realtà ma in realtà dal nostro punto di vista l'investimento è sulle face to face proprio perché consente per esempio tramite la tecnica indirizzi di rappresentare in modo olistico l'universo e proteggere il campione da tassi di sostituzione che sono ormai altrimenti rischiano di uscire fuori controllo e grazie al poter utilizzare un frame esaustivo e in altri paesi guardate i miei colleghi in UK utilizzano la tecnica postale per esempio in Italia questo è molto difficile proprio perché il tasso di risposta in Italia è molto diverso quindi noi io faccio parte dello steering committee globale della mia azienda per l'audience management quindi vedo i tassi di tutti i paesi in India funzionano certe tecniche in Italia che è un paese molto più maturo e molto diverso non funzionano quite simply in più le face to face però fanno una cosa importantissima e cioè proteggono la misurazione questo perché consente ovviamente di ottenere dati dichiarativi con la mediazione dell'intervistatore su questo torno tra poco ma anche perché consentono di integrare nei sistemi di stima per esempio i dati di osservazione diretta io lavoro per Auditel uno dei miei compiti è dire come deve essere fatto il panel Auditel e quindi vuol dire rappresentare benissimo per esempio le risorse tecnologiche i device tecnologici che sono in casa ma ormai è una giungla là fuori le persone si confondono tantissimo e quindi mi citano un dispositivo per l'altro quindi io in realtà entro con la mia rete degli intervistatori faccio una scansione canali sul loro televisore oppure osservo direttamente quali sono i device in casa e così proteggo la misurazione della stima e questo ovviamente è fattibile solo entrando in casa delle persone quindi una tecnica dal nostro punto di vista insostituibile e allora se noi dobbiamo tenere al centro il fattore umano e difendere il valore delle face to face ovviamente dobbiamo riconoscere anche il valore del rispondente che non è una merce ma è un individuo e va rispettato noi parliamo di unità statistica ma poi quando vai sul campo ti trovi di fronte a persone no? Anna Alberto Antonia quindi vuol dire riconoscere il valore del rispondente vuol dire anche riconoscere il valore dell'intervistatore cosa di cui ci dimentichiamo troppo spesso e riconoscere il valore del rispondente vuol dire sicuramente rispettare i suoi tempi il suo tempo di vita il suo ritmo di vita adattandoci alle sue esigenze anche semplificando i questionari mi ha fatto riflettere quello che diceva prima il collega su quanto è costrittivo il sistema statistico europeo e quindi costringe a realizzare questionari molto complessi io in audite l'avevo sfide analoghe lo sapete come l'ho vinto costretto il presidente e tutto il comitato tecnico a subire un'intervista e subire la parola giusta e lì abbiamo aperto la strada a una vera semplificazione al famoso gioco della torre che è rispettoso del rispondente è una tecnica che consiglio quindi star attenti anche alle specificità del target noi come metodologi siamo cresciuti al grido del fatto che la omogeneità degli approcci e dei questionari è la migliore protezione di una buona qualità del dato ma la realtà è che oggi se affronti un settantenne o una persona della Gen Z o un millennial mi dispiace ma anche le parole devono essere diverse e quindi forse la migliore protezione del dato statistico richiede una riflessione ulteriore e forse la personalizzazione e l'adattività è una cosa importante in più bisogna ridare un senso alla partecipazione guardate noi quando andiamo sul campo scopriamo interi target che non hanno una cultura neanche minima di quale sia la differenza tra la ricerca campionaria soprattutto probabilistica e la telefonata per vendere le pentole io quando vado al garante mi alzo o in agcom mi alzo e dico la prima cosa che le voglio dire è che io non vendo pentole però in realtà servirebbe una pubblicità a progresso una nobilitazione il ricordo del fatto che le indagini campionari fanno parte anche della costola democratica del nostro paese e visto l'astensionismo che c'è se non voti e non dai alcun feedback al sistema poi non puoi pensare che le tue esigenze siano rappresentate dal sistema stesso faccio un esempio per farne altri però un elemento di comunicazione che faccia cultura su questo è sicuramente una cosa sulla quale io rifletto rifletto tantissimo e cerco di spingere anche i player come Audi tele o di radio a riflettere in questa direzione e anche magari ad agire difendere l'intervistato il valore umano del singolo dell'individuo però non è sufficiente non dobbiamo dimenticarci che esiste un valore incredibile dell'intervistatore soprattutto nelle face to face anche nelle telefoniche ma soprattutto nelle face to face una professionalità altissima scusate faccio veramente in fretta ma mi premeva dirvi anche questo perché bisogna ricordare che l'intervistatore ha un ruolo metodologico importantissimo protegge la misurazione l'abbiamo visto prima è un mediatore spiega le domande adatta magari il linguaggio ed è un osservatore ma poi difende anche il campione perché è un convertitore di mancate risposte convince le persone a collaborare e quindi diminuisce il processo di autoselezione e in più il fatto di mandare una persona fisica oggi nel mondo del virtuale è un segnale tangibile e fortissimo del valore che si attribuisce ha proprio a quella risposta lì e quindi non dobbiamo dimenticarci che l'intervistatore è un asset insostituibile con una professionalità che va sempre rispettata e noi metodologi dovremmo proprio ricordarcelo grazie grazie infinite per questo intervento estremamente estremamente interessante e adesso c'è Maura Giacummo che ci dice come stiamo cercando in istituto di semplificare gli strumenti per favorire la rilevazione lei lavora nella direzione per le tecnologie informatiche e quindi ci darà questa chiave di lettura alla sessione che stiamo facendo prego Maura buongiorno a tutti sì allora iniziamo col dire che l'innovazione tecnologica in istituto ma così come avviene ormai in tutti quanti gli altri settori costituisce un driver che permette di apportare innovazioni metodologiche digitalizzazione di processi e quant'altro da questo punto di vista l'esempio più significativo ce lo dà il censimento che è passato dall'essere decennale a permanente come è stato già trattato da Giuseppe in questa parte qui l'offerta tecnologica che l'istituto ha messo a disposizione è stata molto ampia e sono state digitalizzate non soltanto le fasi di conduzione vera e propria quindi parliamo delle piattaforme di raccolta dati o piattaforme di gestione dati ma anche quelle piattaforme che aiutano nella rilevazione all'atere della rilevazione come la formazione a distanza o il monitoraggio quindi tutta questa diciamo infrastruttura che si è creata è stata utilizzata in tutti quanti i censimenti quindi sia in censimento permanente della popolazione sia negli altri censimenti no profit e istituzioni pubbliche e questo ha consentito in effetti di avere dei tassi di risposta che sono stati appunto citati precedentemente molto buoni ed alti quindi siamo partiti da questa idea per nell'ottica di un miglioramento continuo per vedere cosa possiamo offrire anche per le altre indagini per migliorare questi tassi di risposta una particolare attenzione l'abbiamo posta alle app in particolare a quell'app che sono state date per la rete di rilevazione iniziamo a parlare di questo filone qui l'app data al rilevatore è un'app che è leggermente diversa da quella che noi siamo abituati a vedere ovviamente sui nostri cellulari è un'app che funziona in modalità online e offline e ha avuto l'obiettivo di migliorare la tecnica di rilevazione in particolare per la capi perché il rilevatore andando sul campo può gestire la rilevazione e l'intervista faccia a faccia in un qualunque contesto senza doversi preoccupare se era necessario avere o meno la rete internet questo qui ha portato sicuramente un miglioramento nell'ambito del lavoro del rilevatore ma non solo ha anche diminuito secondo noi un pochino il burden sui rispondenti perché effettuare un'intervista faccia a faccia in modalità offline inevitabilmente diminuisce quei tempi che sono legati a fattori esogeni come ad esempio la rete che potrebbero allungare i tempi di intervista quindi sicuramente diciamo questo ha costituito un elemento di un valore aggiunto sia per la rete di rilevazione che abbiamo visto essere particolarmente importante per aumentare i tassi di risposta sia per il rilevatore non solo ma i tempi e la sincronizzazione in tempo reale dei dati fa sì che qualora un rispondente risponda in altri canali il rilevatore ha questa informazione immediata e quindi non va a disturbare nuovamente il rispondente i dati ci dimostrano che l'utilizzo dell'app è stato molto apprezzato l'app è stata rilasciata la prima volta nella wave del 2019 e il tasso di utilizzo dell'app dei rilevatori è stato inferiore al 20% siamo arrivati nella wave del 2023 dove più del 50% dei rilevatori hanno utilizzato almeno una volta l'app quindi anche questo ci dà un'idea che l'esperienza utente sia stata buona questa esperienza utente diciamo ovviamente non è paragonabile all'esperienza che può avere un rispondente perché parliamo di un utente che comunque è specializzato ha fatto formazione però ci dà una proxy che ci ha fatto sì che ci siamo spinti un po' oltre e abbiamo iniziato a pensare che le app possano essere utilizzate anche dai rispondenti questo anche in un'ottica delle mutate abitudini che hanno i rispondenti ormai chiunque ha un dispositivo dal quale ormai dipende la vita diciamocelo per cui anche in questo contesto l'istituto sta lavorando è un contesto di una complessità molto superiore rispetto alle app date ai rilevatori primo perché dobbiamo garantire che queste app funzionino con un qualunque device e l'offerta di device sul mercato è estremamente ampia però non garantire questo potrebbe portare un effetto boomerang cioè potrebbe portare a una poca soddisfazione a una frustrazione dell'utente l'altro elemento non meno importante un punto su cui stiamo attenzionando a livello di istituto è quello che al momento non tutti i questionari dell'istituto sono adatti per essere fruibili tramite app questo perché l'istituto facendo questionari estremamente complessi e lunghi spesso le app non sono lo strumento più adatto anche su questo stiamo lavorando perché stiamo cercando proprio tutti quanti di rivedere e riottimizzare i questionari affinché senza perdita di patrimonio informativo possano essere poi fruibili tramite le app quindi diciamo che in questo caso la tecnologia sta facendo un pochino da driver sugli aspetti metodologici e su questo e l'esperienza su quale l'istituto sta lavorando stiamo iniziando a sperimentare l'app per i rispondenti per l'indagine spese sulle famiglie ora questa indagine ve la racconto velocissimamente è un'indagine che funziona sia in modalità capi che in modalità papi la parte cartacea ha un diario che viene rilasciato al rispondente alla famiglia nel quale la famiglia per 14 giorni deve annotare le spese che vengono effettuate sia per conto di tutti i componenti della famiglia ovviamente quello che stiamo facendo è sostituire questa parte papi con l'app e questo noi ci aspettiamo che porti un grosso valore aggiunto perché principalmente perché la famiglia senza doversi portare cartacei o dover conservare scontrini può memorizzare immediatamente l'acquisto e quindi diciamo li semplifichiamo in qualche modo la vita quindi sicuramente quelle indagini che si comportano che hanno queste caratteristiche sono le prime che verranno analizzate per fornire le app direttamente ai rispondenti poi esiste un mondo che è il mondo non app perché le app appunto non vengono diciamo gradite da tutti e soprattutto non da tutte le fasce di età anche su questo l'istituto sta in qualche modo lavorando abbiamo delle piattaforme ovviamente di acquisizione dati web che funzionano sono stabili e sicure però stiamo lavorando in una duplice ottica innanzitutto stiamo rivedendo la piattaforma informatica delle acquisizioni dati che viene utilizzata adesso per i censimenti per renderla più facile all'utente finale e soprattutto per renderla completamente accedibile secondo le linee guida dell'Agid altro lavoro sul quale stiamo lavorando è quello di integrarci con quegli strumenti che sono già propri della digital PA ad esempio per quanto riguarda la piattaforma di acquisizione dati siamo integrati con SpeedC per l'identità digitale questo sembra una cosa che viene data per scontata però per l'utente avere la stessa gestione delle credenziali che utilizza in altre piattaforme e quindi conosce gli semplifica di molto la vita perché non deve occuparsi più di quel mondo che per lui è noto sulla base di questo identico discorso abbiamo anche integrato l'app IO che è stata una sperimentazione che è stata fatta con il censimento permanente della popolazione che è continuata nelle varie wave è quella di fornire le informazioni sulle persone che non hanno risposto tramite questo canale anche qui il rispondente si trova in qualche modo a dover governare un processo che conosce perché l'app IO la conosce per altri contesti quindi diciamo che questa visione ha se vogliamo 360 gradi sulla quale stiamo lavorando perché non è solo l'app ma è l'app per i rispondenti l'app per i rilevatori le piattaforme web speriamo che in qualche modo portino sia a una maggiore affezione del rispondente finale e sia un miglioramento dei tassi di risposta vi ringrazio per l'attenzione grazie Maura adesso il professor Visconti ci illustra un po' quelle che possono essere quelle che sono le aspettative delle imprese del mondo imprenditoriale rispetto all'interazione che ha con la statistica e con la statistica pubblica grazie grazie e buongiorno a tutti grazie per questa opportunità devo dire che uno che interviene a questo punto ha un vantaggio perché un po' di cose sono già emerse anche nella seduta nella sessione precedente ha un grande svantaggio che mi permetto di associare i bisogni elementari della piramide di Maslow qualcuno si ricorderà questo modello di organizzazione in cui c'era l'autostima l'autorealizzazione eccetera ma poi bisogna mangiare quindi abbiamo anche delle pressioni da qui alla una una e mezza due meno un quarto io proverò a portarvi efficacemente un punto di vista diciamo della piccola e media imprese dell'imprenditore quindi di uno dei destinatari privilegiati dell'attività delle statistiche ufficiali io non ho mai indagato con loro questa specifica curiosità questo specifico fabbisogno però li conosco abbastanza bene e provo a trasferirvi alcuni sentiment su come l'azienda media italiana vive potrebbe vivere l'interazione in quella sede di cui oggi stiamo parlando lo faccio partendo da una prima citazione è una frase che dice tra l'altro io ho avuto anche l'onore di pubblicare su tendenze demografiche in Italia in cui un gretto aziendalista come me c'entra veramente poco però penso di aver portato un contributo simpatico sul problema della natalità e dell'imprenditoria de natalità e imprenditoria la frase è questa migliaia milioni di individui lavorano producono risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli incepparli scoraggiarli è una frase famosissima di Einaudi di Luigi Einaudi del 1961 che trovate spesso nelle aziende io a me è capitato abbastanza spesso perché gli imprenditori si riconoscono molto in questa frase del 1961 e questa è la prima riflessione che volevo portarvi che è quella del noi dobbiamo conoscere gli imprenditori che evidentemente magari uno come me ha avuto più occasioni diciamo di confronto uno che parte da altri presupposti professionali evidentemente ha altre esigenze sono persone che hanno tendenzialmente una cultura tecnica un grande legame con la loro azienda vivono la competenza dal punto di vista del core business prima che dei dati ecco in generale queste aziende sui dati non dico che siano all'età della pietra ma diciamo che non è nella loro natura analizzare dei dati adesso le aziende sono anche cresciute nei sistemi di programmazione e controllo per esempio però non è che vivano lavorando di fino sul dato e questo secondo me va tenuto presente tenete conto che quando l'incontro una delle incombenze più faticose degli ultimi anni sono le rendicontazioni collegate agli ISG oggi per portare a caso un mutuo tu devi andare a rendicontare a banca intesa o a unicredit una serie di attività su cui l'immediata reazione dell'imprenditore è l'incombenza la fatica l'imprenditore magari ha appena donato dei soldi per una bellissima iniziativa della Croce Rossa o per piantare degli alberi in una collina che è bruciata per effetto di incendio e questo l'ha fatto spontaneamente quando deve dargli forma in maniera strutturata dice scusate ma io devo anche vendere dei macchinari devo anche consegnare dei tavoli perché se non consegno dei tavoli non creo neanche i presupposti per riempire il bilancio ISG o addirittura quello per lo Stato italiano questo ve lo dico perché chiaramente dico cose notte a tutti però va affermato il concetto di che tipo di animal spirits avrebbe detto Schumpeter abbiamo davanti in questo la tradizione secondo me dei rapporti con la pubblica amministrazione non è delle più felici per una serie di ragioni probabilmente anche a torto delle imprese però io ho scritto già nel 2011 un libro sugli imprenditori e lì avevo composto un cahier dei doleans che sono quelli che poi loro anche strumentalmente vi raccontano ho cercato un'autorizzazione per ampliare il capannone l'aspetto da tre anni ho avuto una visita dell'agenzia delle entrate ed è successo quel che è successo siamo in ballo da dieci anni eccetera quindi lavoriamo in un contesto che è sui generis secondo me e che va rispettato perché comunque rimane l'asse portante dell'economia del nostro paese tra l'altro credo aver sbirciato qualche dato penso che si faccia più fatica con le piccoline a portare a casa riscontri nelle statistiche ufficiali io più l'occhio sul manifatturiero evidentemente partendo da questo presupposto il secondo punto è come siamo messi secondo me dal punto di vista dei dati alla statistica ufficiali ecco io temo che le aziende siano esposte a una overdose di richieste e non sono solo quelle dell'Istat peraltro evidentemente con particolari vincoli ma sono faccio un esempio quella delle camere di commercio del territorio quella della università del territorio quella del centro studi dell'associazione imprenditoriale del territorio e questo fa sì che per chi è in azienda non sia facilissimo discriminare né le priorità né evidentemente tipi di dati da assemblare una cosa che non ho detto ma che è importante è che questo tipo di aziende non è che siano molto strutturate quindi non è che hanno lì sette persone dedicate a certi tipi di elaborazioni e a volte devono anche andare fuori a prendere i dati ai dati di tipo economico virgolette li ha il commercialista e che è il quale magari ha altre duecento aziende clienti quindi non sono internalizzate le competenze e le strumentazioni per dar seguito alle richieste qui c'è un sovraccarico e probabilmente è vissuto anche un po' come un costo organizzativo sicuramente prima che economico nel doverle prendere da fuori questo sovraccarico potrebbe essere anche a mio avviso magari seriale se i campioni sono molto limitati cioè se di quel settore le aziende sono poche il rischio è che vengano tra virgolette tartassate e questo alza il livello di difesa o se volete di insofferenza delle aziende oppure questo mi pare che accada che se l'azienda è grande è sollecitata tantissimi fabbisogni di richieste quindi questo credo che sia il dato di partenza non credo a quanto almeno ho capito che ci sia un problema di qualità dei dati perché quantomeno nel caso dei dati all'istat credo che le aziende siano ho fatto anche qualche piccola intervista per prepararmi a questo incontro però il problema insomma esiste cioè il dato di fondo che ho tracciato in questi primi cinque minuti è non dimentichiamo mai che tipo di imprese e di imprenditori abbiamo davanti e prendiamo atto che queste aziende sono esposte evidentemente a un sovraccarico di richieste soluzioni magari risparmio anche qualche secondo rispetto al tempo che mi è stato attribuito allora la prima cosa che si potrebbe valutare è quella di vedere se ci sono come dire delle possibilità di sviluppare delle sinergie tra chi richiede dati cioè magari dicevo è stato qui se lo chiede già l'istat forse la camera di commercio è meglio che non lo chieda oppure se si può anche attraverso l'intelligenza artificiale io su questo evidentemente sono ignorante però si può stabilire una modalità organizzativa con cui questo dato diventa il dato che accede a una fonte sola e non insiste sull'azienda più volte addirittura anche attraverso le ricerche su questo se posso permettermi vi butto un osso si direbbe simpaticamente su una cosa che ho scritto nel 2002 dove ho fatto dei ragionamenti chiamiamoli sul metamanagement dei territori ecco non dimentichiamo che ognuno ha il suo centro studi la camera di commercio invento la mia terra di Varese ha un centro studi l'unione industriale della provincia di Varese ha un centro studi e l'associazione artigianale della provincia di Varese ha un centro studi in più noi nel Varesotto abbiamo anche due università quindi tutta sta roba in un sistema all'italiana che diciamo non è particolarmente selettivo fa sì che ognuno diciamo coltivi il suo studio e quindi una logica sinergica incontri inevitabilmente delle barriere alla razionalizzazione e all'efficienza siamo fatti così l'altra cosa che si può fare è quella diciamo di ragionare sulle restituzioni io non so fino a che punto si possa dire le aziende le abbiamo come dire interrogate sulle problematiche di questo settore però una volta all'anno gli restituiamo cinque slide che tornano magari utili all'azienda per capire alcuni suoi temi competitivi o alcune sue dinamiche di mercato oppure possono esserci dei bonus degli incentivi francamente non so eviterei un libro dedicato mio perché credo che sono una deterrence quindi diciamo bisogna anche dosarli bene per questo c'è secondo me un lavoro di fino da fare da questo punto di vista però la cosa che credo è probabilmente anche un po' il portato di un momento di lavoro come questo ed è già emerso questo tema io credo che la sfida futura sia quella del grande lavoro da fare che c'è sul valore del dato del dato rigoroso io ho paura che ci sia ormai una dinamica inflattiva sui dati per cui questo olio di cui si parlava diventa così pervasivo quasi inquinante che non si riesce più a capire quando il dato serve veramente all'azienda al policy maker all'università per fare certe cose e quando invece fa parte di un corredo da cui poi uno non si sa orientare o meglio magari qualche multinazionale si orienta molto bene ma noi non lo sappiamo come siamo esposti e questo è un lavoro che è già emerso mi viene anche da dire che potrebbe essere un lavoro rigoroso selettivo quasi elitario non un elitario diciamo da elite intellettuale ma l'elitario di chi si posiziona come chi mette a disposizione dei dati che sono serviti attenzione che sono serviti e che servono e che possono servire sul che sono serviti credo che si apra anche tutto il tema della valutazione ecco io sono convinto che ci sia da rafforzare chiamiamola supply chain tra data producers e policy makers tra data producers e attuatori di certe scelte e il rischio è invece che l'abbondanza dei dati non morda ai fini delle decisioni che servono a quelli per cui i dati sono stati prodotti vi faccio un esempio simpatico e poi chiudo con una battuta anche io del 2017 l'esempio simpatico simpatico perché è certamente semplicemente un articolo del Corriere della Sera di oggi che ho letto in treno come si leggeva sono ormai l'unico soprattutto il Frecciarossa col Corrierone della Sera che tra l'altro facilita un processo anche intellettuale perché almeno uno così no sposta il cervello c'è un articolo sull'ANVUR di un collega universitario di qualche sede che commenta 18 anni di ANVUR che è l'Associazione Nazionale di Valutazione della Qualità della Ricerca molto molto critico molto critico avrà le sue motivazioni però lo dico io che faccio il rettore io credo che l'abbondanza dei dati che l'ANVUR ha elaborato in tutti questi anni solo in parte si traduce poi in azioni che impattano sviluppando l'Ateneo X e magari un pochino ridimensionando parlo con prudenza essendo a Roma ma c'è il Ministero l'Ateneo Y perché se no uno produce dati e se non vede l'utilità marginale dice cosa serve allora questo è un esempio di come il dato deve essere messo a servizio anche della decisione dell'azione ed esempio e chiudo perché ho due secondi è che anch'io nel 2017 ho un dato nel 2017 perché ho citato Gabbani perché nel saluto ai laureati della Liuc faccio in maniera un po' simpatica Gabbani poneva il problema della folla che grida dei mantra se vi ricordate quando ha vinto Sanremo ecco io credo che dovremo invece fare in modo che il dato magari non è gridato ma è qualche cosa a servizio veramente della crescita che è già nei fatti ma dobbiamo rafforzarla questa cosa perché la forza della massa di dati che circolano deve essere contrastata con come dire con un salto di qualità secondo me nell'interazione con i destinatari ho rubato 40 secondi sgradevolissimo però in questo caso allora intanto ringrazio tutti i partecipanti e chi ci ha raccontato le esperienze siccome ci abbiamo tutti fame farò una una chiusura di 20-25 minuti cioè allora la questione è semplice ci sono degli aspetti che vanno dall'organizzazione alla comunicazione alla metodologia all'informatica che devono assolutamente essere presi in considerazione se vogliamo che i numeri che ci ha detto Giuseppe all'inizio non solo siano confermati perché l'istituto non va a caccia del record del tasso di risposta abbiamo usato il tasso di risposta in questo contesto per evidenziare uno uno dei tanti indicatori che possiamo produrre per certificare la qualità che bene che va viene considerata con 5-6 dimensioni quindi dobbiamo se vogliamo veramente aumentare la qualità dei dati che produciamo la qualità delle informazioni dobbiamo cominciare a considerare che l'imprenditore che può risponderci al sensimento della popolazione e quindi diventa un cittadino tra virgolette normale e quindi ha bisogno di risposte su larga scala sociali quando va a rispondere se è particolarmente fortunato all'indagine sulla sua piccola media impresa ha bisogno di un'altra cosa e il professore qui ce l'ha ce l'ha detto chiaramente io sicuramente al prossimo questionario che parte la prossima indagine che fa gli mando il questionario così ci fa subito una bella recensione me lo leggo sul frecciato esatto però il viaggio deve essere lungo perché se no non riesce neanche a aprire la prima pagina quindi dobbiamo assolutamente continuare sulla traccia che ci stiamo dando e che ci siamo dati da tempo per semplificare le cose per sfruttare tutte le informazioni che già abbiamo a disposizione il discorso del diluvio dei dati che è tanto caro il nostro direttore generale per dare le informazioni che servono oltre agli obblighi istituzionali perché noi abbiamo ovviamente come dicevo prima degli obblighi che banalmente ci impone Eurostat per i quali non è che possiamo inventarci chissà che cosa ci sono delle definizioni ci sono delle informazioni che non possiamo prendere direttamente dalle banche dati dell'agenzia delle entrate o dalla fatturazione elettronica ma ci sono delle informazioni che possono contribuire a diminuire il carico sugli rispondenti integrando questionari e dati amministrativi ormai per noi sono dati da registro perché sono pretrattati e statisticizzati passati nel termine quindi utilizzabili per finalità statistiche non per finalità amministrative e questo secondo me e secondo noi che lavoriamo in questo gruppo di raccolta dati metodologi chi lavora all'informatica siamo ben consci di questo di questo approccio e quello che dovremo fare e che stiamo facendo e dobbiamo continuare a farlo in futuro io basta perché se continuo a parlare poi veramente arrivo a 20 minuti mi vengo ucciso grazie anche a tutti in particolar modo a chi è intervenuto e chi ha avuto la pazienza di aspettare fino ad ora per sentire quello che avevamo da dire adesso andiamo ai bisogni elementari della piramide e poi vorrei un trolley con scritto per quando devo leggere il questionario no quello altro è trolley grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti